ciao a tutti e bentornati oggi voglio mostrarvi come giocare alla nuova versione dell'aggiornamento che è appena uscito di life for dead 2 cioè la 2.1.5.1 allora andate dove avete installato il gioco qui ad esempio ce l'ho installato c programma 86 life for dead 2 nella root principale aprite anche la cartella life for dead 2 scorrete verso il basso troverete un file still.inf editatelo con notepad più più oppure ragazzi con notepad normale io già l'ho messo diciamo però poi dallo 0 qui dalla 2150 mettete 2151 e salvate chiudete andate vi faccio vedere ad esempio proviamo questo che è una versione nuova si vede 2151 quindi copiamo l'indirizzo qui con la porta abbiamo il gioco aspettiamo che carichi un secondo che finisce di caricare questo ragazzi al momento è così poi quando uscirà la patch la porterò sempre sul canale intanto per giocare si può giocare in alcuni server quindi non è la maggior parte da provare insomma allora se vedete la versione ora qua riconoscerà la 2.1.5.1 aprile la console fate connect e incollate l'indirizzo IP che abbiamo copiato prima da quel sito facciamo invio questo serve per collegarsi al sito direttamente tramite l'ip suo diciamo che la porta che usa il setter sta caricando correttamente eccoci qua ragazzi siamo ok come vedete ragazzi non è ancora essere riusciamo vi ho mostrato che funziona nella presa di una patch ragazzi usate questo metodo per giocare con gli ultimi server con questo è tutto io chiudo un salutone ci becchiamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.